Prendete abbiamo le stesse maglie Concentrati, concentrati ragazzi, forza Non lancio perchè siamo messi ma... Buono L'azio Ho detto prima, non c'entrati là in mezzo Concentrati Provano con il pressing Federico Tardano il pallone Non bene qui possesso pallone Fai bene Avanzano nella tre quarti avversaria Occhio al cross Si mette bene sulla linea del passaggio Intercetta pallone Prova a rubarti il pallone Buono Recupera la palla con un buon intervento Occhio che l'ho detto prima Hanno il pallone per passare a condurre Palla deviata e intervento decisivo Bravo Bravo Calma, 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 calma Facciamo che abbassare Bravo Buono Buono Punta Bravissima Parità assoluta Cercano continuamente il tiki taka Palla recuperata dagli avversari Intermetto troppo vigoroso Ci sarà calcio e ripunizione Calcio e ripunizione Calcio e ripunizione In questa circostanza Sono d'accordo Mi piacciono gli arbitri che dialogano Con i giocatori Per spiegare le loro decisioni Aiuta secondo me Anche a stemperare gli animi in campo Traversione sul secondo pallone Accettativo letto bene dal portiere Che esce e blocca senza problemi Bene Buona lettura dell'azione intercettato bene il passaggio Federico Intercettano bene il pallone Bravi Eh, sarà pagato, bravi Buona Difesa scoperta Ha spazio per andare Buona Può clossare da lì Buona triangolazione Bravi Buonissima La giusta, la giusta Occhio che scappa Occhio che scappano dietro Bravo Intercetta bene il passaggio E non era facile Bravo Cambia completamente gioco Palla che termina in out Dopo l'ultimo tocco Si ripartirà col palo laterale Rimessa sprecata L'ultimo tocco è il suo Sarà rimessa laterale E arriva il fischio dell'arbitro Punizione Sarà un po' Ok Ok Questa Torno di possesso di palla Continua ad avanzare Federico Guarda il movimento in area non buttano via il pallone preferiscono aspettare il momento giusto va bene va bene giochiamo dobbiamo giocare dobbiamo continuare a giocare a finire la partita di concentrato vedremo se una delle due squadre sarà in grado di prendere l'iniziativa con il passare dei minuti per sbloccarla giochiamo giochiamo noi giochiamo poi a finire il primo tempo vediamo l'anti giochiamo c'è grande pressione su di lui ribalta il fronte dell'azione a spazio l'ultimo tocco è il suo e sarà dunque a calciare metti alla metti alla occhio al tiro della bandierina allora è un po' troppo molle altro tiro della bandierina vuole il tocco tentativo di traversone si schema da calcio d'angolo questo è funzionato la perfezione tocco corto e crocinare e no è un po' di testa che ha infilato il portiere imparabilmente si chiudono e no infatti tocca continuarla secondo me e poi rifarla secondo me noi continuiamo continuiamo loro crashano tutti e poi vediamo che ci dicono se dobbiamo rifarla come che bisogna fare siamo al Kian Prince Foundation pronti per seguire il match squadra è già in campo si attende solo il fischio dell'arbitro qui è il vostro biologico parlo che vi parla restate in compagnia mia e di Lele Adani per questo match interessantissimo non dovrebbe mancare lo spettacolo Lele le squadre in campo i tifosi sugli spalti la cornice di questo splendido stadio ci sono tutti gli elementi Piero e stiamo per assistere a uno spettacolo favoloso personalmente non vedo l'ora intervento perfetto ad alto rischio in area nuovo possesso per loro sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano pallone buono questo ha sprecato tutto da pochi passi ha optato per la potenza la palla non è uscita di molto ma poteva fare meglio qui c'è il rilancio lungo pallone recuperato senza problemi qui costa capisce tutto intercetta il lancio pressing che funziona il pallone recuperato può liberarsi del pallone cross in area sventa il pericolo l'ultimo tocco è il suo dunque calcio all'angolo la mette in area azione che sfuma prova con questo pallone allontana bene il difensore prova in acrobazia e c'è il gol non perfetto il quartiere sul primo tiro palla che è rimasta lì e la spinta in rete rivediamo il gol da un'altra inquadratura eccolo qui vedi il replay evidenzia l'intervento non impeccabile del quartiere sulla prima conclusione poi l'avversario ha raccolto la respinta e la depositata in rete da pochi passi ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 entrata decisa sale con il pallone possono trovare il gol del pari attenzione quartiere attento parata facile su questo tiro buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passaggio giro palla prolungato per aprire gli spazi crin serie di scambi prolungata aspettando il momento giusto palla che resta in zona pericolosa decisivo l'intervento che evita guai riconquista il pallone si fa spazio da un'occhiata in mezzo attenzione è arrivato dunque il gol del parete siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1 a 1 hanno spezzato bene la trama qui baragna metri verso l'area intervento pulito con il pallone che finisce in out a tempo e spazio per trossare sventa la minaccia sul cross pericolo ecco il tiro dice di no con questo intervento occhio al cross in mezzo non si fa sardegno azione che sfuma c'è la possibilità del contropiede occhio al pallone filtrante l'uscita del portiere che salva tutto guarda il movimento in aria allora un po' troppo molle bravo il difensore che ferma tutto occhio alla progressione capisce tutto e recupera un pallone pericoloso possono ripartire dopo il recupero del pallone Federico guarda che spiove intervento efficace a liberare la difesa alla meglio e allontana il pallone legge bene e interrompe l'azione avversaria era fallo ma c'era norma del vantaggio ci sarà un minuto di recupero fa su il pallone fa ripartire l'azione ottima qui la giocata e l'arbitro dice che può bastare dopo i primi 45 parità 1 a 1 e l'arbitro